Radio Radicale si è svolta oggi a Montecitorio la conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario della riapertura della Camera dei Deputati. È stato ribadito il calendario che era già stato stabilito precedentemente e oltre all'informativa di oggi dei Ministri degli Esteri e della Difesa ci sarà un dibattito il 7 settembre con il Ministro Di Maio in attesa di verificare anche la disponibilità del Ministro della Difesa Guerini il prossimo 7 settembre. Ascoltiamo che cosa ci hanno detto Emanuele Fiano del Partito Democratico e Vandaferro di Fratelli Italia che hanno partecipato alla conferenza dei capigruppo.